Alcune osservazioni sulla didattica a distanza. In questi giorni che le scuole sono chiuse per quanto riguarda i nostri studenti, i genitori possono vedere sul registro elettronico o gli stessi studenti, se sono grandicelli, i compiti che gli insegnanti assegnano, le lezioni che devono continuare a seguire. Quando poi invece la scuola mettesse a disposizione una piattaforma di classe virtuale, allora sarà possibile per l'insegnante interloquire direttamente con i ragazzi ognuno naturalmente dalla propria casa. Noi siamo un gruppo di scuole, il liceo Pio IX all'Aventino, dove ci sono anche le medie elementari, l'istituto comprensivo Daniele Manin, il liceo classico Albertelli, l'istituto tecnico Ambrosoli, abbiamo preparato una piattaforma di classe virtuale molto avanzata. Utilizziamo il sistema Moodle, che è un open source, cioè non si paga, che viene adoperato in molte università e che dà la possibilità veramente agli insegnanti di parlare con i ragazzi. La stessa cosa possono fare gli studenti, possono mandare i loro compiti e naturalmente, pur con tutte le difficoltà del momento, possono ricostruire un po' il clima della classe.